In un momento difficilissimo come l'attuale, con milioni di persone in difficoltà e una crisi economica e finanziaria che rischia di sconvolgere gli assetti sociali del Paese, io sento il dovere di pronunciare parole di personali scuse, consapevole come sono della necessità di un simbolico gesto di riparazione nella difficile situazione in cui oggi versa la società italiana.